Buongiorno a tutti. L'argomento di oggi è quello che riguarda i problemi del 3 semplice. Problemi il cui testo contiene 3 informazioni. E sono problemi semplici, facili da risolvere, in quanto esiste un procedimento molto semplice che mi porta facilmente a trovare la risposta alla domanda presente nel testo. Per capire in cosa si consistono partiamo dal primo esempio. Per confezionare una marmellata di ciliegie occorrono 2 chili di frutta e 1,2 kg di zucchero. Quanti chili di zucchero saranno necessari se i chili di frutta diventassero 5? La prima cosa importante da fare è leggere almeno un paio di volte il testo. E mettere in evidenza le 3 informazioni che in questo caso sono i 2 kg di frutta, 1,2 kg di zucchero e 5 kg di frutta. A questo punto dovremo confezionare una tabella con due colonne mettendo su ciascuna, in testazione, la grandezza considerata. Le grandezze sono due e sono la frutta espressa in chili e lo zucchero espresso anch'esso in chili. Inseriamo i dati. 2 kg di frutta richiedono 1,2 kg di zucchero, 5 kg di frutta chissà quanto zucchero richiedono. Questa è la mia incognita. A questo punto dobbiamo porci questa domanda. Le due grandezze, ossia i chili di frutta e i chili di zucchero, sono due grandezze direttamente o inversamente proporzionali. Ossia, se raddoppio i chili di frutta, i chili di zucchero necessari raddoppiano anch'essi o dimezzano? Se la risposta, come in questo caso, è raddoppiano anch'essi, le due grandezze sono allora direttamente proporzionali. Pertanto potrò inserire due frecce che abbiano lo stesso verso, entrambe rivolte verso l'alto, come ho scelto io, oppure, ed è indifferente, entrambe rivolte verso il basso. A cosa serviranno queste frecce? Queste frecce, come dei segnali stradali, mi seguiranno, mi indicheranno il percorso da seguire per ottenere una proporzione. In questo caso, la partenza è qui e scriverò 5 sta a 2 come x sta a 1,2. Otterrò quindi una semplice proporzione, la cui incognita nel mio problema è il medio, ed è facilmente risolvibile. Ed ecco un secondo esempio. Per costruire un muro lavorano 8 operai 6 ore al giorno. Ma se gli operai fossero 12, quante ore al giorno dovrebbero lavorare? Di nuovo, andiamo alla ricerca delle tre informazioni, messe in evidenza in azzurro. 8 operai 6 ore al giorno 12 operai Quante ore al giorno dovrebbero lavorare? Ed ecco la nostra tabella. Gli operai, indicati con un numero, e le ore al giorno. Se gli operai sono 8, le ore al giorno sono 6. Se gli operai fossero 12, quante ore al giorno dovrebbero lavorare? Di nuovo la mia domanda, per capire se le due grandezze sono direttamente o inversamente proporzionali. La domanda da porci è la seguente. Se gli operai raddoppiassero per compiere lo stesso lavoro, dovrebbero lavorare il doppio delle ore o la metà delle ore? La risposta è Se raddoppiano gli operai, le ore al giorno necessarie saranno esattamente la metà. Due grandezze che si comportano così sono dette inversamente proporzionali. Pertanto, le frecce da affiancare alle colonne dovranno avere verso opposto. O la una verso l'altra e l'alto verso il basso, o viceversa. Io ho scelto questa seconda possibilità. Come prima, le mie frecce mi guideranno, mi indicheranno il percorso da seguire per ottenere una proporzione 8 sta a 12 come x sta a 6. E ancora una volta avrò ottenuto una semplice proporzione cui termine da scoprire è il medio, che si risolverà estremo per estremo 8 per 6 fratto o diviso il medio, 12. La risposta sarà che 12 operai dovranno lavorare solo più 4 ore al giorno. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima lezione. Ciao!